Eccomi alla seconda tappa di questa quarta giornata a New York. Dietro di me potete vedere l'Imperstate Building, uno dei grattacieli più famosi al mondo, anzi quello che per 40 anni ha mantenuto il primato di grattacielo più alto al mondo. Vi aggiorno sulle condizioni meteorologiche, ha smesso di piovere, è tornato il sole, è uscito il sole, adesso non si capisce bene ma sembrere di nuovo voler piovere, però io nel frattempo mi sono comprato un ombrello perché non ho nessuna intenzione di rimanere ferma a New York, ho letto che è molto frequente in agosto che possa succedere una cosa del genere. Vi voglio dare qualche informazione su questo grattacielo su cui ho intenzione di salire, perché ci sono alcune curiosità interessanti che voglio condividere con voi. Allora intanto è stato costruito a una velocità mai vista, nel senso che, scusate ma come sapete, prendo spunto sempre dalla mia guida. Progetto a una velocità mai vista prima con una media di 4 piani e mezzo ogni settimana. fu inaugurato infatti in anticipo il primo maggio 1931 e questo fatto permise un risparmio di 5 milioni di dollari sui 50 milioni di dollari preventivati. Fu un'altra azione turistica sin dal principio, però durante la depressione metà dei suoi 180 mila metri quadri rimase sfitta e ciò lì valse il soprannome di empty, quindi vuoto state building. Il grattacielo vi dico anche da quanto è alto, eccetera, eccetera. Sono 102 piani per 380 metri d'altezza, 6.400 finestre e la sua base di 5 piani occupa 0,8 ettari sulla Fifth Avenue. Invece la torre è famosa, la torre è fatta di metallo e cristallo, è alta a 6 piani ed è famosa, come tutti sapete, probabilmente, perché King Kong si aggrappava, tanto che prima veniva considerata come qualcosa che rovinasse la linearità dell'edificio, ma dopo King Kong è stata rivalutata, tanto che adesso è diventata un simbolo dell'edificio. La torre è stata pensata come attracco per dirigibili, ma è stata usata a questo fine solo due volte. Negli anni 70 l'edificio perse il primato di grattacielo più alto al mondo, ecco di nuovo la panoramica, ma viene considerato, cioè un critico afferma che sia l'edificio più alto al mondo e è secondario, perché comunque ha un grande valore affettivo per i new yorkesi e per gli americani. Cosa vi volevo dire? Nulla, adesso io cercherò di salire sul grattacielo, mi hanno già fermato dei tizi qua fuori che volevano 49 dollari, ma io mi sono detta che forse era un po' troppo, e quindi andando avanti ho controllato su internet, ho visto che costerebbe circa 30 dollari, e quindi andrò a cercare un luogo dove non mi prendano in giro, insomma, perché ho la faccia di una che può essere presa in giro. Ma no! Comunque, detto questo, vi aggiornerò più avanti. Ciao!